Centro sportivo Don Bosco a Salargius, seconda semifinale del torneo Maracanà Open di calcio a 7 organizzato ad Alan Torney, nel quale si affrontano Pizzeria Sustentu che indossa un completo verde e Football Club Es Intermedia che veste un completo giallo. Occhi puntati sulla prestazione di Montarastelli e Vargio di Pizzeria Sustentu e Vitellaro di Es Intermedia, tutti nomination per l'assegnazione del premio come miglior giocatore del torneo. Direzione di gara affidata al signor Marco Faes dell'MSP Sardegna, buona visione. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!